L'esercito russo controlla circa tre quarti di Severodonetsk. A confermare l'avanzata dei militari di Mosca è il Ministero della Difesa ucraino. I combattimenti coinvolgono tutta la città, divenuta ormai l'avamposto decisivo per controllare il Lugansk. Dal quartier generale di Mosca, il portavoce del Ministero della Difesa, Igor Konashenkov, ha fatto sapere che i caccia dell'aviazione russa hanno attaccato una stazione ferroviaria vicino a Donetsk e hanno distrutto, sono le parole del portavoce, una grande quantità di armi consegnata all'esercito ucraino dagli Stati Uniti e dall'Europa. Nel giorno in cui le forze russe sembrano imporsi nell'est dell'Ucraina, Amnesty International pubblica un rapporto in cui accuse il Cremlino di crimini di guerra. Mosca avrebbe bombardato in maniera indiscriminata Kharkiv causando la morte di oltre 600 civili utilizzando, si legge nel report, munizioni vietate come le bombe a grappolo. L'unica speranza adesso è che la diplomazia prenda il posto delle armi, un auspicio sempre sottolineato dalla Santa Sede. Il direttore del primo dipartimento europeo del Ministero degli Esteri Russo, Alexei Paramonov, ha affermato che la dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la propria disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina. Queste affermazioni, ha spiegato paramonov, sono confermate nella pratica, manteniamo un dialogo aperto e riservato su una serie di questioni principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina.